Viva Gesù, viva Maria! Siamo novizie del noviziato internazionale Maria Ausiliatrice ad Abidjan Costa d'Avorio nell'Ispettoria Madra di Dio a FU. Grazie! Siamo 12 dal secondo anno, mi chiamo Marta, vengo dall'Angola Anna, togolese, Florence dal Togo, Luizette dal Madagascar, Angelina dal Madagascar Maria Vittuaggi Benio, Marisa, angolana, Domiana, angolana, Prisca, togolese Germana dal Madagascar Vaida di Ghana Gabriella dal Madagascar Grazie! Siamo 11 del primo anno, grazie! Michel dal Gabon Donessia, vengo dal Madagascar Isabel dal Madagascar Angélica, vengo dal Mozambico Mi chiamo Neide, sono angolana Mi chiamo Estelle dal Chad Mi chiamo Benilda, sono angolana Sono Fanny, sono la Gabon Mi chiamo Elisa, vengo dal Mozambico Mi chiamo Bernarda, sono angolana Mi chiamo Joana, sono angolana Ma l'infiltra Brea ina